Musica Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Arwen ed oggi continuiamo con Tell Me Why dovevamo far conoscere nostro fratello a Michael che sarebbe il nostro amico, credo di aver capito così quindi vestiremo i panni di Alison in questo caso mi piace questa cosa che possiamo vestire i panni di entrambi i protagonisti e non solo di uno a proposito Aspettate, allora prima di continuare mi avete detto anche tu sull'edad33 e Marco mi avete detto di se potevo ingrandire i sottotitoli solo che i sottotitoli ci ho già guardato e non si possono ingrandire quindi io sono arrivata alla conclusione che vi potrei mettere sfondo sottotitoli qui vi metto uno sfondo nero così almeno diciamo con il sottotitolo con la scritta che è bianca con uno sfondino nero può darsi che riuscite a leggere meglio i sottotitoli ma come vedete anche voi non posso ingrandirli in alcun modo quindi insomma mi dispiace per quello ma non posso farci niente ok intanto vi ho messo lo sfondo nero così mi direte poi quando uscirà questo video se è un pochino meglio oppure è uguale a prima che non l'ho fatto ok adesso siamo Alison che strano che mi fa fino ad ora abbiamo Alison l'abbiamo utilizzata solamente all'inizio del gioco ah non possiamo interagire con nient'altro credo no sì Tyler arriviamo eccoci eccoci Questa è il patro, Tyler, mette Michael. Questa è l'annoying co-worker che avevo conto di te. I was there per l'introduzione di marshmallow, vodka e wine coolers, e ho solo lavorato con un'annoying co-worker. Rude. Non preoccupare, mi ha detto che mi ha detto che mi sarebbe in questo town senza te. È così bello che finalmente mette te. La Tyler talk va a continuare 24-7, quindi mi sembra che già conoscevi. So, uh, hai qui a prendere qualcosa per la homestead? Sì, abbiamo deciso che sarebbe più facile se ci stavessi fuori qui. Siamo riusciti più velocemente se non possiamo escapare. Hey, sono per efficienza. Non posso aspettare per noi per arrivare qui. Cosa è? Forse potremmo essere quei inquilini. Michael è andata a Juno, anche. We were thinking of being roommates. Oh. Ok. Grazie a tutti. Sì. Mi pare di vedere che Tyler e Michael già vanno molto d'accordo. Ah, aspettate, aspettate che vedo... Eccola! C'è un qualcosa. Dove? Ah, eccolo, ricorda. Da Tessa. Speciale del giorno, l'umpia di salmone. Vediamo un po' qua. Esamina. Studio della Bibbia con Padre Bautista. Io spero che abbiano sufficienti signaturi su questo. Su che? They want to build a fancy hunting lodge up the river. It's going to totally screw up salmon migration. Firma la petizione, protegge la migrazione dei salmoni. Fermiamo la costruzione dei capanni da caccia a Fallow Creek. Vediamo qua. Chi? Di partimento di polizia di The Lost Crossing. All'arma e criminalità recentemente sono verificati numerosi casi di furti di posta. The Lost Crossing nei dintorni. Alcuni cittadini hanno denunciato la scomparsa di pacchi e corrispondenza dalle cassette delle lettere. Ah, vabbè, stanno rubando la posta. Cioè, ma che senso ha? Vabbè. Un attimo, Tyler. Devo vedere tutto qui dietro. Qui in giro, dappertutto. Vabbè, ho capito. Entriamo. Well, hello, Miss Ronin. L'hai forgetta di qualcosa nell'office? No, solo fare qualche shopping. Do you remember my brother, Tyler? Your brother? Oh, right, Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town, or...? More or less. We've been working out at the old house. But, surprise, surprise. After ten years of sitting empty, it was missing a few things. Hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. Uh, I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels... Complicated. Abbastanza. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? Um, the wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. Ok, intanto noi facciamoci un giretto. Candle e un detergente. Ruolo di Rodolfo? Solo una trappola per turisti, dai. Mi sembra un po' troppo. Qui? The Lost Dulcet Live. Concerto gratuito. Faceggiamenti di Halloween e in chiave cattolica. Spaccamasciale dice no. Campo Recruited. Ti interessa il Roller Derby? Iscriviti aperto a persone con qualsiasi livello di esperienza. Yeah, Tessa was Paleo for a hot minute and her whole gaggle of church ladies followed suit. The madness spread from there. Tyler. Piccolo papillon. Soda, l'uva. Un po' snob facciamo. Non lo so, non l'ho seguito. Allora, aspetta, eh. Qui fatemi leggere bene. Beh, prendiamo la soda all'uva, dai. Soda all'uva, dai. È bella sta cosa che ci fanno scegliere pure. Soda all'uva, dai. Soda all'uva, dai. Oh, slow down, tiger. Maybe someday, but in the meantime, I'll be washing dishes as I work my way up Juno's cutthroat diner in the street. Yeah, I'll graduate to slinging Adam and Eve on a raft. Uh, what? Eggs and toast. I've been studying up on dinerlingo. I've been studying up on dinerlingo. I've been studying up on dinerlingo. Sto aspettando Tyler, facciamo. Yeah, I'd be down already, but I'm letting Tyler browse and take it all in. Must be weird for him to be back here. Yeah, I don't know. But today's been crazy. Define crazy. Abbiamo trovato quel cosa. We, uh, we've found some stuff in Marianne's room that really threw us for a loop. Do you want to talk about it? I do, but not here. And I think it also might not be my story to tell. But maybe all of us can hang out later and you can get the whole messy story. All right. Well, I'll be here if you need me. Okay. Allora, andiamo a cercare le ultime cose perché... Ah, man. Marianne used to sample everything from the bulk bins. Tessa hated it. Hey, Tyler. Remember the Trout King? Yeah, I saw it. I thought Tom might have retired you by now. You kidding? He never misses a chance to tell customers he won a Trout Derby. It was a 12-pounder! Hey, Tom. When'd you get that new California plate? You remember that nice young couple that came from town last summer? With the funky bag. They sent you their license plate? Their van got it, pal. But I pulled some strings to get it out. So by pulled strings, you mean you gave Eddie a discount on those new waiters? I've got friends in high places. That pumpkin's huge. That pumpkin's huge. It's very natural, right? We might have to scrub a little harder, but I'd never be able to look those beefers in the eye again if we use those chemicals. The organic one it is? Strawberry is in November. That really is one enormous pumpkin. Mamma mia, quanto è grande. È gigantesca. Michael, you want me to pick up some birch syrup for you? Is that some roundabout way of asking me to make you two my world-famous pancake? Ooh, busted. Let's see. Fresh-cut peonies. Triple-layered chocolate chip cake. Toasted marshmallow. Are you doing a dramatic reading of a fancy-ass cookbook? Nope. Just browsing these fancy-ass candles. Questa, allora, che c'è scritto? T-light normale, pacchetto da sei non profumate. Do you think you could take a picture of this? Look, all the good fishing spots are marked. Forse è più tardi, un attimo. Aspetta, qui c'è scritto. Candela all'agrifoglio, glaciale, candele profumate. Beh, prendiamo queste, decisamente. Eh, scusate, eh. Che facciamo? Prendiamo delle candele che non profumano? Ma non ha senso. Caramelle, patatine e clays. Eh... Beh, le caramelle... No, facciamo... Facciamo le patatine. Mmh, I'll take the chips. Ok, I think we're done here. Tom will ring us up at the counter. Andiamo un attimo con lui. Si può parlare? No. Sì. Grazie, Tom. Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. My God, you look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So, we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprise, it's even still standing. We found some stuff in Marianne's room that took us by surprise. Oh, really? Si. We want to ask you some questions about her. You're the only person who might have known Marianne better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know. I know. I need to ask. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Marianne was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. She didn't need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's not that easy. What happened that night? You can't understand something like that. But it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you. Truly. Si va bene, ma non ci ha spiegato niente. I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Something's weird here. It's weird, right? Yeah, I feel it too. It's like something's on the tip of my tongue. Non lo so. Mi sembra tutto molto strano. Ma perché vanno così? Dov'è? Aspetta. Aspettate. Ah, ecco, laggiù. Ricordiamo, ok? Ok. Segui il ricordo. All done yet? Yeah, mam. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne? Can you come here? Sorry, Tessa. I'm in a bit of a hurry. Oh? What's your excuse this time? Emergency repairs for the beaver dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Ah, I don't want to forget about that. I remember it. But not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version, ok? Mi sembra strano. Quindi c'aveva anche i debiti con questa Tessa. Allora, qui c'è Tessa. Vediamo un po' un attimo. Prendiamo. Bo, vabbè. Allora, vediamo qui. Settimana dal 2 all'8. Ah, vabbè. I turni. Proviamo un po'. Chissà se ci dice qualcosa. Cosa stai combinando? Sto solo facendo compere. No, just picking up some things for the house. Oh, ok. Does your brother need any, um, shaving products? We've got some on sale. I think he's got everything, but, uh, thanks. Good, good. Well, you'll let me know if we're running low on anything you need. Non importa. No, never mind. E, vabbè, allora, possiamo, penso, uscire di qui. Un altro! Aspetta. Ricorda. Uh, mamma, can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne? Can we talk? No. We can't. Just leave the groceries, kids. Let's go. No, don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Okay. We remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, after that, they walked to the counter, and then Marianne lashed out at Tessa, right? Uh, no. Marianne defended us because Tessa got all preachy. Which is it going to be? Scegli quale ricordo vuoi riportare alla luce. Io farei più con Marianne, era arrabbiata. Okay? Anche perché non penso che... Visto che ha detto che era molto... Questa Tessa ha detto che Marianne era una persona molto riservata, e lei ha cercato... Tessa ha cercato di parlarne con Marianne. Per me è così, e Marianne si è arrabbiata. Quindi penso che il ricordo di Tyler sia quello migliore. Penso, eh, penso. Marianne era arrabbiata. Penso che era questo. So, let's talk for a few minutes. Okay? Please, Marianne, I'm just trying. Stay away from my children. They don't need your guidance. I'm just trying to help. I don't need help! Not from you, not from anyone else in this fucking town. I'm done with all of you. You're done with the food I give you? The fuel? Maybe you are. But the kids are my children. Tessa, mine. Not yours. Please, let's not do this here. Let's go into my office. Fine. Okay. You two, wait here. What is wrong with you? I'm still skeptical, but, okay. For now, let's say Marianne was being Marianne. But once they got into the office, they both went at it hard. What do you think they were arguing about? Me? Don't know. It was impossible to hear anything after she cranked up the music. But hey, now that we know she was lying to our faces, let's ask her. No, no, bisogna chiedergliele queste cose. Non possiamo rimanere sempre così. Your day off. Is there something I can do for you? Il tuo litigio con Marianne. Earlier you said Marianne kept everything to herself. But you two had a big fight a few months before her death. Didn't you? We argued all the time. You'll have to be more specific. This wasn't about who cheated at Canasta. This was intense. You locked yourselves in the office so we couldn't hear. I'm sorry. It was a long time ago. Now, I was in the middle of something. Okay. We'll leave you to it. Damn it. Non parla. Non parla. Non dice niente. I think she knows more than she's letting on. A duh. But there's no way to nail her down when we don't even know what we mean. If we could pinpoint what it was about, she'd be out of excuses. Sure, but how do we do that? The music was too loud to make out what they were saying. Marianne and Tessa were obsessed with that song. It was on all the time. What are you thinking? We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Maybe listening to it will trigger something. Hmm. You may be onto something here, Ronan. We can't go back to her with anything half-assed. We should go talk to Tom. Make sure we build as strong of a case as possible. Okay. Okay. Let's see if we can figure out what song it was. We should go talk to Tom, right? Hey, Tom. There's something I can help you with? Come vanno gli affari? How's business? Oh, a little light on customers, but that's given us time to finish up the inventory. I think we might close early. Maybe catch the final of survival on ice live. Don't tell Tessa, but I'm rooting for Butch. She thinks he's too cutthroat. I say that's the game. You tried that new chocolate bar we got in last week? Oh, no. Not yet. I didn't think I'd like it. Habanero and chocolate. But it's not bad. What do they think up next, huh? Come process the campagna? What's next on the campaign trail? A rally down at the harbor. The fishermen are getting pretty fed up with business as usual. I've got some ideas about how to keep the fish populations up, but also put food on the table. Grab some flyers. Help spread the word. Allora, io adesso chiederai, ricordi quella canzone? This might be a weird question, but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love? They played it all the time? How could I forget? I think she's still got the CD back here. A little worse for the wear, of course. Hold on. Here it is. I was happy when it got put away, to be honest. A bit cheesy for my tastes. Chissà se si ricordano qualcosa. Speriamo di sì. Speriamo di sì. Andiamo a ricordare qualcos'altro. Mamma, stop! That's so embarrassing! Oh, yeah? Tessa, come join me. I know you love this song. No, I couldn't possibly. Some of us are actually trying to get work done here. Okay. Yeah. What the hell happened? You think there's more memories lurking around? I don't know. Let's see. Non è qua. Aspettate, dobbiamo andare più avanti. Ricorda. No. No, no. Tessa. No, no. 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 Va la rimettere. Oh. Hey Tom, do you mind playing the song again? Ricorda Che cosa hai dato? Che cosa hai dato? basta allora io prenderei questo a fare a proposito qui possiamo portare qualcosa qui che prima non ci non potevamo vederci linda e se ti dicessi che il governo ti deve oltre 10.000 dollari per la tua educazione non è un prestito ma non dovrai restituire nulla da una truffa credici aspetta un attimo cosa campeggio dei cercatori di virtù guarda la coalizione per la famiglia tradizionale guarda la conferenza del dottor Whitmore 10 grandi aforismi cristiani che ti cambieranno la vita guida per genitori evitare l'attrazione omosessuale campeggio dei cercatori di virtù aperte le iscrizioni poi Sarmatian il tuo ordine è stato spedito e i testi sono appena tornata dal lavoro e ho trovato le ragazze a letto che dormivano come ghiri Adrian ha detto che quando è venuta a prenderle erano euforiche e hai convinto entrambe a mangiare il tuo care care quale santo hai pregato per uscirci per tutta la mattina non hanno parlato d'altro che della gita in campeggio con la zia Tessa dei marshmallow che hanno mangiato e degli insetti che hanno catturato non ricordo l'ultima volta che l'ho vista entrambe così felici di solito una ride mentre l'altra piange so che sei molto occupata a gestire il negozio e diventare first lady perciò grazie di aver trovato del tempo per loro nonostante ti abbia avvisata all'ultimo minuto le ragazze dicono ti vogliamo bene zia Tessa p.s. tu e Tom dovreste venire a cena qualche volta Adrian muore dalla voglia di fargli vedere la nuova sala multimediale li terrà occupati mentre noi sorseggiamo vino in cucina la tua sorellina è preferita aspettate allora Nicole ok l'elefante nella stanza so che non volete affrontare la questione ma Lisa ha saltata ancora le prove sono settimane che non si fa vedere so che ci siamo tutti commossi per la sua esucazione di Danny Boy al funerale di Carl ma a cosa serve una splendida voce se non ti presenti alle prove in orario ogni settimana come tutti gli altri credo che dovremmo iniziare a organizzare il ballo invernale senza di lei beh comunque la coalizione è questa qua poi prendiamo intanto il quadernino quello che sta qua dentro allora leggiamo un po' Elia è al ristorante no ok Eric B saldato debito A no Mary Ann allora era davvero era arrabbiata anche quella visione nostra era giusta anche perché Tessa era arrabbiata con lei ha detto che devo cominciare insomma gli ha parlato del saldare i debiti che ha Mary Ann aprile 50 dollari per la benzina saldato poi da ottobre novembre dicembre gennaio non l'ho vista proprio ok parliamo un po' con Tessa ma non lo so che se questa ci racconta qualcosa di diverso ma questa non parla abbiamo ricordato i dettagli noi siamo tornati con dettagli che dovrebbero aiutare i ricordi oh davvero sì davvero Mary Ann aveva uno di una giornata tu stessi 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 non stessi 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 possiamo fare ottobre 2004 credo le hai parlato del campeggio ma dai su un po' campeggio dei cercatori di virtù che stessi 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 Not well. Not well at all. Do you know what they do to kids in those places? I do. Now... How did Marianne take your helpful suggestion? Badly. She wanted to let you be whatever perfect little butterfly was in that cocoon. And yes, we argued about it. So she was cool with who I was? She was more than that. She loved you. Listen, I don't mean to be rude, but I really do have a lot on my plate today. Okay. We'll get out of your way then. Thanks, Tessa. Non lo so, allora perché avrebbe reagito così? Perché avrebbe attaccato Tyler? Se gli voleva bene. Ci sono treppe cose che non combasciano. Non lo so, la situazione è molto strana. Ma... Just, uh, trying to wrap my brain around all that. I can't believe you got Tessa Vecchi to talk about the past. Bravo. Yeah. Marianne, she... had my back. It... It really doesn't change much, right? She was still fucking crazy. She still tried to kill me. But knowing she was trying to protect me, before whatever the hell happened that pushed her over the edge, it feels good, Allison. Hey, look at me. You are allowed to feel however you are feeling about this. God, I could use a smoke. You're speaking my language. What? Sorry, I'm just thinking about what this means. Yeah, me too. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well, and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I... Never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. Guess that might have made for some awkward dinner conversation. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thorough. I'm sure he's got something. Let's go. Non so. Molto strano il tutto. Non è una situazione che ti fa comprendere bene cosa sta succedendo. Allora, fermi. Io mi fermerei qui. La situazione non è molto comprensibile. Come ci siamo lasciati, diciamo, con le stesse, con i stessi dubbi che avevamo nel video precedente. Anzi, in questo caso, era proprio Tessa che aveva consigliato di mandare Tyler a uno di quei campeggi che gli fanno il lavaggio del cervello. A questi ragazzi e ragazze, insomma. Non ha senso, no? E Mary Ann si era arrabbiata apposta per questo perché, a quanto sembra, accettava Tyler per così com'era. Senza volerlo cambiare. Però non si capisce il perché lo abbia comunque attaccato e ha provato ad ucciderlo. Cioè, se lei da una parte voleva accettare il figlio, la figlia, per com'era, perché poi l'ha provata a ucciderlo? Non so. Non so, davvero. È molto strano sta cosa. Abbiamo sempre più dubbi. Più passa il tempo e più abbiamo dei dubbi. E i nostri dubbi non si placano. Ma anzi, io credo che andando avanti, forse, siccome in questo gioco sono tre capitoli, non sono cinque, come in Life is Strange, sono tre come in Before the Storm, diciamo. Quindi non mancherà, penso, moltissimo. Però comunque adesso stiamo andando abbastanza avanti. Non credo che mancherà moltissimo al secondo episodio. Però credo che dal secondo inizieremo a capire qualcosina in più. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina. E se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!